Siamo in compagnia del dottor Pierluigi Capogna, medico dentista e specialista in odontostomatologia. Buonasera, benvenuto. Buongiorno. Dicevamo poco fa proprio fuori onda che siete qui da tanti anni. Siamo qui da 27 anni circa, dal gennaio del 1988 e lo studio era già sul territorio da tempo. Per cui quasi ormai 27 anni, 27 anni di storia di salute. 27 anni di storia di salute, sì, si cerca sempre di migliorare e di offrire ai pazienti la salute e non il superfluo, insomma. Ecco, cos'è che in questa fase, in questo periodo soprattutto storico, vi viene richiesto? Perché molti magari puntano al risparmio, ma quello che conta è comunque sempre cercare di stare attorno alle vere esigenze del paziente. La vera esigenza del paziente penso che sia l'ottenimento del proprio benessere e per ottenere questo, secondo me, ci vanno parecchie cose. L'innovazione, prima di tutto, lo stare al passo coi tempi, flessibilità e soprattutto il proporre alle persone quello che la loro richiesta deve essere esaudita, senza andare oltre e senza fare del budget dello studio o semplicemente di una questione economica. Il proprio credo in questo studio penso di esserci riuscito in tutti questi anni. Infatti ho pazienti che mi vengono qui da quando erano bambini e adesso mi portano i loro figli, insomma. Esatto, quindi crescere, insomma, quasi di generazione in generazione. Questo è il vantaggio del fare, come punto di riferimento, avere uno studio, quindi si può dire quasi il dentista, il medico di fiducia. Sì, sarebbe bello che fosse sempre così. Io sono qui, ripeto, da ormai tanti anni, sono sempre io. Io e la mia assistente da ormai 12 anni e l'assistenza precedente da altri 14 erotti. Quindi abbiamo dato una continuità notevole. Io in questo studio, essendo specialista e quindi avendo un'esperienza notevole, la capacità di farlo, faccio ed eseguo qualunque cosa, considerando la completezza della persona e non solo il solo fatto della bocca, odontoiatrico, come vogliamo dire. Insomma, giustamente per fare questo bisogna avere anche la capacità di evolvere, di stare al passo coi tempi. Oggigiorno si cerca più la tecnologia, il digitale, tutto. Infatti negli anni abbiamo cercato di mantenere questo tipo di target e di aggiornamento. Cercare di rimanere al passo coi tempi. Come si è evoluta la tecnologia da questo punto di vista? Anche appunto lo studio di determinati problemi, come vengono affrontati oggi rispetto a ieri? Oggi rispetto a ieri ci sono materiali diversi e questo il mercato lo dà comunemente. Giustamente ci sono anche delle attrezzature diverse. Si è passato dalla radiografia per esempio con lo sviluppo manuale alla radiografia digitale. Si è passato dal non avere l'ortopantomografo in studio ad averlo, poter fare stratigrafie. Si è passato dal fare cure manuali a ottenere dei miglioramenti con attrezzature per esempio elettroniche o laser. Adesso anche questa è una cosa molto importante che sicuramente, abbinata certamente anche alle metodiche tradizionali, porta un surplus di valore notevole. È questo che voglio dire. Il valore aggiunto di una terapia fatta in uno studio e privato in una struttura, diciamo attrezzata bene e gestita sempre dallo stesso personale, crea continuità, crea sicurezza secondo me nel paziente. Che ricordiamolo deve essere il centro di quella che è la vostra attività. Il centro della nostra attività deve essere il paziente, le sue esigenze e quello che effettivamente a lui serve, non il superfluo, perché oggigiorno con la crisi che c'è non bisogna andare oltre quelle che sono le richieste del paziente e evitare di fare cose inutili ed evitare di fare cose dannose che tante volte vengono chieste dai pazienti. Bisogna avere anche il coraggio di dire di no tante volte. Ecco, un'ulteriore cosa. Sempre parlando di innovazione, voi come avete innovato? Come siete rimasti al passo coi tempi? Al di là delle cose che ho detto prima, quindi il laser e la digitalizzazione del sistema radiografico, ultimamente abbiamo acquistato una macchina, un sistema CAT-CAM per la produzione delle protesi prevalentemente in zirconia, ma che può fare di tutto, giustamente non gestita da me, perché tanti posti ormai spingono per questa digitalizzazione protesica fatta in studio, però non c'è il tempo per fare, secondo me, un lavoro di qualità e a un costo adeguato. Noi ci siamo adeguati in questo per poter offrire al paziente e di conseguenza in tutti i sensi un prodotto finito di alta qualità e al costo giusto proprio per questo diretto interessamento dello studio da parte con l'iprotesista, diciamo collaboratorio. Ecco, questo sicuramente mi sembra un grosso vantaggio. In termini di costi che abbiamo detto per il cliente sono spesso importanti, spesso si fa riferimento ai dentisti come qualcosa che è meno legato alla salute, spesso considerato certe volte superfluo, si punta più a risparmiare. Ma guardi, qui noi usiamo, adesso non si può parlare di tariffe giustamente, ci si basa su un tariffario che è stato fatto tempo fa a livello nazionale in base alla regione, al territorio. Noi utilizziamo una base di questo tipo sul basso e non sull'alto, questo sicuramente per venire incontro alle esigenze giustamente della persona. Quello che ritengo importante dire è che è il valore aggiunto di una terapia che conta e non il semplice fatto di acquistare un qualche cosa di generico. Bisogna capire questo. È importante la salute, il resto poi, ripeto, giustamente viene di conseguenza. Il valore aggiunto di una terapia è importante, proprio per questo motivo qui. Non bisogna assolutamente pensare che in uno studio privato, io parlo del mio però penso anche di altri colleghi, questo venga trascurato. Non bisogna mettere in primo piano il paziente, ripeto, e la garanzia, tra virgolette, che si può dare nel tempo e qua mi sembra che ci sia stato in pieno, piuttosto che non essere un numero. Ecco, questo è quello che secondo me è importante. Grazie quindi al dottor Capogna per essere stato con noi. Grazie ancora. Grazie a voi. Ci fermiamo solo per pochi istanti di pubblicità. Torniamo tra pochissimo sempre qui per il nostro speciale da Montano Lucino. Non mancate.